ciao ciao amiche e amici benvenuti sul mio canale vediamoci insieme ora questo video seguitemi allora ho preparato gli ingredienti voglio provare a fare queste bucce questa è la pasta madre che ho rinfrescato circa cinque ore fa è aumentata di volume come avete visto ho fatto la dose giusta un pochino di più perché qualcosa poi rimane sempre attaccato al bicchiere la metto in una ciotola e la sciolgo la sciolgo mettendo ho preparato l'acqua mettendo una parte della dose di acqua della ricetta ok la sciolgo per benino così tranquillamente con le mani come al solito faccio qualche taglio per non allungare troppo il video naturalmente se volete potete usare la planetaria io preferisco in questo caso fare queste bucce a mano e miscelo un pochino le due farine semola e farina di tipo zero semola rimacinata così e semplicemente con un cucchiaio all'inizio metto mettendo acqua giro giro con il cucchiaio l'acqua all'inizio ne avevo messa un pochino di meno poi ne ho aggiunto un'altra pochina quindi vi dovete regolare ci sono alcune ricette addirittura che mettono scrivono acqua quanto basta per le bucce quindi non tutte le farine assorbo allo stesso modo anche essendo la stessa farina di tipo zero magari con 12 proteine un'altra un pochino più alta quindi bisogna regolarsi con l'acqua io l'ho messa 300 vediamo avete visto ho versato l'olio ho versato l'olio non lasciato un altro pochino che poi metterò ancora e impasto con le mani adesso in questo modo con il pugno così come vedete un pochino duretto quindi penso che aggiungerò ancora un po di acqua poi in descrizione comunque vi metto la dose giusta però ripeto regolatevi a regolatevi in base alle vostre farine allora ho messo il sale ci butto sopra un po d'acqua e continuo così con il pugno ad impastare ok adesso lo faccio riposare un pochino tipo 15 20 minuti poi vado a fare delle pieghe vedete la consistenza forse ancora un pochino di acqua ce l'avrei messa vabbè comunque adesso mi sono fermata qua faccio riposare ancora sempre 20 minuti tra di tempo di intervallo faccio ancora qualche piega così in questo modo poi ho preparato l'altro recipiente dove lo metterò metterò l'impasto a lievitare arrotolo un pochino così ho oliato anche questo recipiente ce lo metto dentro ok e adesso non ci resta che aspettare il raddoppio bene eccolo qua sono passate all'incirca cinque ore quindi dalle 4 alle 5 ore la crescita come sapete dipende molto dalle temperature e dalla stagione in cui facciamo questo impasto allora adesso lo metto sul piano di lavoro lo sgonfio un pochino così ho messo un po' di semola ecco qua senza toccarlo tanto lo divido lo divido per andare a formare le mie pucce io le farò piccoline all'incirca ecco mi peso il primo pezzo così poi mi regolo all'incirca di 100 grammi grammo più grammo meno sono all'incirca 100 grammi poi procedo in questo modo piego piego i lembi al centro arrotondo così come si fa con i panetti della pizza le arrotondo ok si sono un po' piccoline però se volete fate le più grandi bene continuo finisco la formatura delle pucce io le farò semplici però la prossima volta voglio provare a farle con le olive sapete che le pucce si fanno anche con dentro le olive i pomodori secchi e altre cose la prossima proverò allora ho finito ci sono venute praticamente nove nove pezzi nove pucce forse un pochino un po' più grandine ne avrei fatte otto comunque va bene così io le metto dentro un telo l'ho infarinato con la semola le divido gli spazi in questo modo e le lascio lievitare ancora presso a poco un paio d'ore i tempi sono relativi mi raccomando regolatevi sempre quando vedete che sono pronte le inforniamo ed eccole qua vedete sono cresciute sono aumentate di volume io ho acceso il forno a 250 gradi darò soltanto una spruzzata di vapore procedo in questo modo le prendo così tranquillamente con le mani le metto sulla carta forno sulla pala così andrò poi a fascicolare come faccio con il pane sulla teglia sulla teglia ben calda quindi le abbasso le abbasso scusate ho dimenticato di mettere i guanti le abbasso un pochino così tanto poi dovrebbero gonfiarsi quando le inforniamo ok ne cuocerò prima 4 5 le cuocio in due volte non mi va di mettere due ripiani perché non verrebbero bene il forno detto a 250 quindi faccio scivolare e cuocio all'incirca per 20 minuti però regoliamoci insomma debbono dorare quando sono dorate sono pronte ok poi accetto naturalmente consigli se c'è qualche amica pugliese per migliorare questo procedimento perché ho visto varie ricette ma sono tutte un po' diverse l'una dall'altra quindi poi ho proceduto a modo mio queste sono le prime intanto che si raffreddano un pochino preparo gli ingredienti per farcirle anche qui andate a gusto a gusto vostro io ho preparato lo stracchino un po' d'olive pomodori insalata e un po' di sottaceti ci metterò e poi la bresaola perché me la trovavo altrimenti possiamo mettere altre cose provo ad aprirne una devo dire sono morbide sì diciamo che mi aspettavo più me le aspettavo più vuote dentro si sono gonfiate ma non molto però però va bene così poi riproverò a farle per migliorarle un pochino bene ne ho farcita già una come vedete procedo ne faccio qualcun'altra e ci ceniamo questa sera ceniamo con le pucce con le pucce salentine bene amici come al solito vi invito a condividere il video lasciare un like a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video ciao a tutti ci vediamo prossimamente ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti